Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone è uno dei più lunghi e costosi della storia giudiziaria italiana. La bambina scomparve il 1 settembre 2004 da Mazzara del Vallo mentre inseguiva un cuginetto vicino all'abitazione della nonna. Le ricerche iniziarono il giorno stesso della scomparsa, ma Denise non è mai stata trovata. Nel corso degli anni ci sono stati vari avvistamenti, di cui il più importante il 18 ottobre 2004 davanti a un istituto bancario a Milano. Del caso se ne sono occupati i principali organi di informazione, tra cui anche la trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai 3. Nessuno, però, è mai riuscito a trovare Denise. Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 23 anni. La piccola, infatti, nacque il 26 ottobre 2000 da Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Nel giorno del suo compleanno, la mamma Piera Maggio si è lasciata andare ad un annuncio strappalacrime via social. Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23esimo compleanno. Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente, sempre. Grazie. Grazie.